Ciao a tutti, testrimard.com, quest'oggi facciamo vedere un piccolo video unboxing e una piccola video preview sulla nuova MSI GTX 980 Gaming 4G, nuova scheda di fascia alta di NVIDIA, in questo caso brandizzata da MSI e equipaggiata con il nuovo dissipatore TwinFrozer 5. Allora, andiamo ad analizzare dapprima la scatola e come possiamo vedere nella parte frontale abbiamo il logo del dragone tipico della serie gaming in colorazione grigia su sfondo nero, in alto troviamo il logo MSI accompagnato dal logo di un famoso clan di gaming e dallo scudetto della serie gaming di MSI. Più in basso troviamo il nome della scheda e qui all'angolo troviamo alcuni bollini che ci indicano che la scheda è equipaggiata con il nuovo dissipatore TwinFrozer 5, abbiamo 4GB GDDR5 on board per questa scheda, abbiamo il supporto dello standard PCI Express e abbiamo segnalato che la scheda è overclockata di fabbrica. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo alcune compatibilità e alcune caratteristiche della scheda, ad esempio compatibilità con i sistemi Windows 8 oppure compatibilità con Nvidia Shield. Più in basso troviamo alcune di Tascalie che ci spiegano, ci illustrano le caratteristiche fondamentali e peculiari di questa scheda. Abbiamo ad esempio le nuove ventole Torx Fan proprietarie di MSI con un nuovo design che le rende più efficienti a meno sulla carta e meno rumorose. Poi abbiamo le SuperSU Pipe che vedono l'innovazione da parte di MSI dell'uso di 8pipes di generose dimensioni che permettono di trasferire il calore più rapidamente dal chip al radiatore in alluminio. Poi abbiamo il sistema HybridFrozer che è un sistema semi fanless. Diciamo che la scheda tenderà a lasciare le ventole ferme quando siamo in Needle quindi non ci sono carichi di lavoro molto elevati e comunque per carichi medi o bassi azionerà solamente una ventola invece di tutte e due. Poi abbiamo la nuova applicazione Gaming App che ci permette di selezionare tra OC Mode, Gaming Mode e Silent Mode. A seconda delle modalità prescelti cambierà la frequenza della scheda, ad esempio per la Silent Mode abbiamo un boost clock di 1216 MHz, per la Gaming Mode abbiamo 1291 MHz e per la OC Mode abbiamo 1317 MHz. più in basso troviamo le caratteristiche della scheda e requisiti minimi di sistema per l'installazione di questa scheda. Poi troviamo le specifiche della scheda stessa che sono il chip e il GTX 980. Abbiamo una memoria on board di 4 GB GTDR5, un memory boost di 256 bit e come output come vedremo abbiamo una TVI, un HDMI e 3 display port. Più in basso troviamo le varie certificazioni del prodotto. Andiamo ad aprire la confezione e all'interno della confezione troviamo il conseguente bundle. Come possiamo vedere abbiamo un adattatore DVI VGA, un manuale per l'installazione rapida della scheda, un piccolo buscolo su altri prodotti della serie gaming su questo lato e le varie che è in partnership con clan da gaming molto famosi nel mondo. Troviamo il cd di installazione driver e l'adattatore 6 pin e 8 pin di alimentazione. Poi all'interno della busca antelettricità statica troviamo la scheda. Eccola qui. Allora, piccolo zoom. Parliamo un attimo delle dimensioni della scheda in quanto molto importante per vedere se questa scheda è compatibile con il nostro case. Le dimensioni di questa scheda sono 279 mm in lunghezza, 140 mm in altezza e 36 mm in profondità. Come possiamo vedere dalla parte frontale abbiamo una cover bicolore, colorazione rossa e colorazione nera con inserti rossi. Il colore non è lucido ma è opaco. Inoltre abbiamo due ventole da 100 mm che vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante. Queste ventole sono le nuove Torx Fan di MSI con un design proprietario che abbiamo detto, almeno sulla carta, attestano maggiore silenziosità e maggiore efficienza. Queste ventole vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante in cui sono collegato 4 heat pipes. La cover, come possiamo vedere, è in plastica e non in metallo come per quanto succedeva, mi sembra, se non erro, nella Twin Frozer classe 3. E inoltre su questa staffa in metallo abbiamo la scritta Dragon Army. Sulla parte superiore della scheda cosa troviamo? Troviamo i due connettori per emettere più schede in parallelo. Troviamo questa piccola staffa in metallo, colorazione nera, che si estende e parte da qui e finisce qui sopra per dare maggiore rigidità alla scheda stessa. Troviamo tre delle quattro heat pipes che sono equipaggiate per questo dissipatore che vanno a trasferire il calore della GPU al radiatore in alluminio. Abbiamo il logo MSI con il dragone e il logo MSI stesso che si illuminerà di bianco quando la scheda sarà in funzione e poi abbiamo due connettori 8 pin di alimentazione. Possiamo vedere inoltre il piccolo dissipatore in alluminio che andrà a dissipare i URM di alimentazione. Sulla parte posteriore della scheda invece cosa abbiamo? Non abbiamo un backplate. Questo ci fa davvero strano in quanto anche nella soluzione reference di Nvidia è presente un backplate anche in tutte le soluzioni, gran parte delle soluzioni delle concorrenti di MSI. Come possiamo vedere abbiamo questo bollino che non sarà compreso nella scheda retail in quanto è per giornalisti, questa scheda ci segnala che questa scheda è per giornalisti. Abbiamo le quattro viti posteriori per il dissipatore oltre ad altre viti di supporto e come possiamo vedere sulle viti principali è presente un bollino di garanzia che ci impedisce di smontare questo dissipatore anche per cambiare semplicemente la pasta termica o montare altri dissipatori o waterblock senza perdere la garanzia. Quindi se smontiamo questo dissipatore perderemo la garanzia. Come possiamo vedere abbiamo lo slot PC Express 3.0 e il colore della parte posteriore del PCB è in nero opaco, davvero bello alla vista. Poi per la parte posteriore è tutto e facciamo vedere la parte inferiore dove è presente la quarta heat pipes che va a raffreddare la GPU e che trasferisce il calore al radiatore in alluminio. Nella parte posteriore troviamo il connettore delle ventole e possiamo vedere l'estensione del dissipatore in alluminio che va a raffreddare passivamente il VRM di alimentazione. Come uscite video per questa scheda cosa abbiamo? Allora, tolgo le protezioni dalle uscite video. Abbiamo ben tre display port, una HDMI e una DVI dual link e qui abbiamo le prese d'aria per far uscire il calore dal nostro case. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che per questa piccola video unboxing e piccola video per voi è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta che troverete prossimamente sul nostro sito streamhardware.com, sulla recensione su questa scheda con ulteriori foto e con soprattutto i test, benchmark e test sui giochi. Quindi per questo video è davvero tutto, vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao! Ciao!